Lo scultore Ferruccio Vecchi è al lavoro nel suo studio di Roma. Già votato all'azione eroica, ardito di guerra e sansepolcrista, Ferruccio Vecchi ha portato nell'arte un fervore che fa di ogni sua opera un saggio originalissimo di trasfigurazione spirituale della materia plastica. I temi dell'eroismo e dell'amore creatore di vita ritornano nelle sue ultime sculture. L'Aviatore Il mirabile gruppo intitolato Invocazione Un gruppo che esalta la famiglia e il lavoro rurale Il mirabile gruppo intitolato Invocazione